Lo scorso 15 ottobre l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, composto da Vincenzo Niro, Cristiano Di Pietro, Filippo Monaco, Domenico Dinunzio e Giuseppe Sabusco, ha approvato la delibera numero 68, con la quale, in ottemperanza alla legge di stabilità regionale del 4 maggio 2015, si reintroduce di fatto il vitalizio in favore dei consiglieri regionali sotto forma di previdenza contributiva. Tale privilegio, come si ricorderà, era stato abolito nella passata legislatura per tutti i futuri eletti a Palazzo Moffa. Per effetto della nuova regolamentazione, i singoli consiglieri dovranno versare 528 euro mensili, mentre il Fondo di Previdenza verrà alimentato con oltre 1.500 euro pro capite mensili, ovviamente con soldi pubblici. Solo per regolarizzare il periodo pregresso che va dalla data di proclamazione degli eletti 16 marzo 2013 al 31 ottobre 2015, ciascun consigliere dovrà versare l'importo, anche rateizzato, di 16.696 euro, mentre le casse pubbliche dovranno versare 45.915 euro per ogni consigliere. Il totale è di circa un milione di euro a carico di Palazzo Moffa, solo per la prima metà della legislatura, somma che ovviamente si raddoppia e salirà a circa due milioni di euro a carico della collettività per l'intera legislatura, che si aggiunge al passivo di oltre 4 milioni di euro all'anno necessario a pagare i vitalizi pregressi. Al termine della legislatura e dopo aver raggiunto i 60 anni di età con più mandati o i 65 con un solo mandato, ciascun consigliere regionale percepirà il vitalizio di importo corrispondente ai contributi versati. Tale vitalizio come i precedenti sarà anche reversibile in favore del coniuge o dei figli. Tutto questo accade mentre il presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha fatto sapere che lui guadagna meno dei presidenti delle regioni e mentre dalle colonne del Corriere della Sera, Sergio Rizzo colloca in vetta alla classifica, precisamente al terzo posto tra i presidenti delle regioni, lo stipendio di Paolo Frattura. Inoltre è noto a tutti che le casse della regione sono vuote e che le imprese per disposizione della ragioneria di Palazzo Vitale non possono essere liquidate per intero da qui a fine anno. È giusto ricordare infine che contro la reintroduzione dei vitalizi previsti dall'ultima legge regionale di stabilità si schierarono Antonio Federico e Patrizia Manzo del Movimento 5 Stelle, i quali continuano a percepire solo 2.500 euro al mese ed i rappresentanti del centro-destra.